Io sono Antonello Dipinto, di mestiere faccio il pittore. L'occhio femminile di una modella. Innanzitutto dobbiamo procurarci dei fogli fabriano, di solito usiamo questi fogli ruvidi, poi ci serve una matita HB e una matita 4B o anche 6B, che è più grassa e fa il segno più scuro. Inoltre ci procureremo anche una gomma pane, che è una gomma diciamo molto d'utile, che ci serve eventualmente per qualche sfumatura. Allora, partiamo. Con la matita HB, io inizierò ad abbozzare nel complesso l'occhio, senza calcare. Cercando di dare una texture del sopracciglio, senza calcare il verso della peluria. Cerchiamo di abbozzare adesso l'occhio. In questo caso la modella ci mette in difficoltà, perché ha l'occhio truccato. È preferibile avere una modella senza trucco, però noi lo faremo lo stesso. Cercheremo di abbozzare le parti anatomiche, la fossa lacrimale, la pupilla, la palpebra. In questo caso abbiamo un'iride chiara, quindi la nostra modella ha l'occhio chiaro, quindi diventa trasparente e ancora più bello da fare. Ora andiamo ad insistere sui tratti. Una volta che ci siamo resi conto che l'occhio ci sembra ben abbozzato, andiamo ad insistere sui tratti. E quindi anche sulle sfumature eventuali. Non mi piace usare dita per fare lo sfumato, è preferibile usare lo sfumato con la matita stessa, sempre 4B, leggera. Vado ad individuare sull'iride, vado ad individuare già la sua macchia di luce, che è questa qui. Abbiamo due motivi di luce, cioè noi ce li andremo ad individuare. E io l'ho ricavata qui. E andiamo avanti, cercando di dare trasparenza. Perché il gioco delle ombre c'è anche sulla pupilla, anche sull'iride c'è. Basta cercarlo. Anche nella pupilla c'è il gioco delle ombre. Ci sarà una parte più in ombra, che è questa qui. Poi, le parole sono, diciamo, superfule. L'importante è seguire passo passo i miei movimenti. A B normale. E sento che posso adoperare l'A4B. Mi vado anche a cozzare la palpebra sottostante. Quindi, diciamo, i muscoli e la pelle sotto dell'arcata orbitale, essendo una modella, diciamo, di giovane età, non avrà le cosiddette zampi di gallina, tanto antipatiche, però tanto belle da disegnare. La zampa di gallina è una cosa molto carina da disegnare. Purtroppo alle donne non piacerà. HB, dopo aver rabbozzato l'occhio, e prendiamo una matita più consistente, più tenera, più grassa. In questo caso abbiamo una A4B. che ci consente di fare le sfumature, ripeto, anche se abbiamo delle difficoltà in quanto l'occhio è truccato. È preferibile, siccome la modella, che è anche con lei che ci sta riprendendo, si è truccata. Invece noi gli abbiamo detto di non truccarsi. E si è truccata. E' preferibile avere un occhio non truccato, per poterlo affrontare meglio, per poterlo affrontare meglio. Perché c'è questo gioco di luce, quindi se la luce proviene dall'alto, noteremo che la palpebra, che è questa parte qui, avrà una piega. Quindi la luce la coglie qui sopra, che c'è una rotondità. Con la matita noi andremo proprio a creare una, come se fosse, se avesse proprio delle sporgenze, usare la matita come se fosse uno strumento, uno scalpello. Ecco, uno scalpello. Non ha importanza come tenere la matita, queste sono, diciamo, vecchie concezioni. La matita si può tenere in qualsiasi modo. L'importante è usarla come se fosse uno scalpello. Noi andiamo a scolpire, ad entrare nei particolari. In questo caso entriremo in questa piega più profonda. Qui poi inizia il naso, che lo affronteremo successivamente. Ora, le ciglia. È, diciamo, antipatico fare le ciglia, perché facendo le ciglia, l'artista cade sempre in un certo accademismo. Diventa antipatico andare a mimare proprio il senso delle sopracciglia. Io vedo in giro un po' di gente che si accinge a fare questo tipo di pratica, di fare proprio la sopracciglia. È antipatico. L'occhio umano, il mio occhio, non percepisce la sopracciglia come filamenti, ma le percepisce come macchie. Allora, io farò così. Insisto sull'iride, perché c'è questa parte scura. Io me la vado a fare. Anche la parte centrale la vado a ricalcare, cercando di mettere in evidenza la parte più luminosa che c'è, che è il punto di luce. Questo è il punto di luce. Anche l'iride ha un chiaro scuro. Questa parte è più scura. Questa parte è più chiara. E io me la vado a ricalcare, questo volo qua. Cambio ancora la matita e prendo l'HB. Per fare queste ombre, non è vero che è bianco questo occhio. Questo è bianco. Il puntino è bianco. Questa parte non è bianca. E quindi io vado a sfumarla. Anche quest'altra parte della pupilla non è bianca. Il bianco è questo. Se noi riusciamo ad osservare bene la realtà, ci ritroveremo a fare delle cose quanto più simili a ciò che l'occhio percepisce. insisto ancora con l'HB. Questi P. La luce batte sia qua che qua. E poi qua sotto avrò la parte dell'arcata sotto orbitale del muscolo sottorbitale. Questa è la forza lacrimale. Io non la vado ancora. Adesso con la 4B vado ancora a Sono matite comuni che si trovano in negozi specializzati. Per me ho ottenuto questa modella si dice qua. Si dice così. Al prossimo episodio Grazie per la visione!